Un traguardo straordinario per Acmei, 50 anni tra storia e innovazione, prodotti e soluzioni per impianti civili e industriali speciali nell'idrotermica e condizionamento. Nella sede madre di Trigiano si sono tenuti festeggiamenti che proseguiranno anche domani, 29 settembre, dalle 8 alle 21. Giornata open, ricca di aggiornamenti, promozioni, gadget, tantissime sorprese e un delizioso buffet per i clienti. Sono tante le novità sulle specializzazioni realizzate da Acmei dal 1973 al 2023. 50 anni gloriosi, 50 anni di successi lo dimostrano anche la grande presenza dei nostri clienti e questo ha dato la possibilità attraverso investimenti importanti di aumentare le nostre risorse e sempre più specializzarci e dare un servizio al territorio. Abbiamo voluto creare un'area dedicata sicuramente ai clienti, quindi dando la possibilità di acquistare prodotti con dei prezzi particolari, appunto questo è fortemente voluto dalla nostra proprietà.